Dunque a Crotone il primo successo del 2019, grande prova della difesa, nel primo tempo biancozzurri cinici ma anche fortunati. Gestione perfetta nella ripresa, zero rischi, grande personalità in difesa, hanno giganteggiato Campagnaro e Scognamiglio. Positiva a centrocampo la prestazione di Luca Crecco, alla seconda da titolare nel ruolo a lui più congeniale, quello di Mezzala. Il classe 95 è uscito alla distanza, a fisico e corsa ha sfiorato anche il gol in contropiede, dopo una bella combinazione con Mancuso. Pillon ha indovinato tutto, escludere Gravillon dall'undici base non è stato facile, scelta senza dubbio coraggiosa. Il tecnico di Preganziolla si è affidato all'esperienza di Campagnaro e Scognamiglio e ha avuto ragione. Il francese è entrato a 20 minuti dal termine, difesa a tre, in luogo di Monachello, offrendo comunque il solito importante e significativo contributo. In attacco cresce l'intesa tra Monachello e Mancuso. La prima rete ne è la dimostrazione. Marras, sempre prezioso nella transizione negativa, andava a schermare Benalì. Ha messo lo zampino nei due gol, tatticamente insomma utilissimo. Nel primo tempo in fase offensiva si è spesso portato sulla sinistra per costringere Vaisanen ad allargarsi, sempre alti gli esterni Sampirisi e Milic, favorendo così il tandem Monachello-Mancuso per il 2 contro 2 con Spolli e Golemic. In generale però questa volta gli episodi sono stati favorevoli. Nella ripresa i Biancazzurri hanno legittimato un successo a conti fatti di inestimabile valore. La classifica, quarto posto con Lecce a meno 4 dalla promozione diretta. Ed ora tre partite in otto giorni. Sabato 23 febbraio alle 15 col Padova in casa, Balzano squalificato. Martedì 26 alle 18 a Benevento. E domenica 3 marzo alle 15 di nuovo all'Adriatico contro lo Spezia dell'ex Pasquale Marino. Pillon ha fissato l'obiettivo play-off, così il presidente Sebastiani. A Crotone ho visto una squadra compatta e matura. Complimenti al tecnico e alla squadra. La promozione diretta? Molto dipenderà dalle prossime tre sfide.